Ciao a tutti, sono Kabilame, e oggi farò Fast & Curious per Combini. Bella lì. Qui è Batman? Sto scherzando. No, è Spider-Man. Tutti e due, su Legend. Cani, cani. I cani rimangono belli fedeli. Smartphone, è molto fast. Cinema. Temur. Tutto. Rihanna. Libertà. Non ho visto nessuno dei due. I never seen. Tutti e due. Pizza, 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 kebab. Movie. Tutti e due. No, 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 no. Sorry. Tutti e due. Ferrari per la week and Lamborghini per il weekend. Sono tutti e due i miei amici. Due, ciuma. Cosa sono queste patatine fritte? Le patatine fritte, le patatine fritte. E il bacio alla francese cos'è? Con la lingua. Patatine fritte. Cana. Boss, perché è il mio boss. Mi piace tanto il cinema, il cinema mutuo. Faccio solo mutuo per ora. Però spero di arrivare a fare altro. Futuro, mi raccomando, collegati. Ciao. 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 Grazie a tutti.